Vi prego, vi prego, il mio ragazzo... Come ci si sente? Il mio ragazzo è lassù, lo capite, vero? Non mi toccare. Per favore, vi prego, il mio ragazzo è lassù. Lasciatemi vedere come sta. Vuoi sparare anche a me adesso? Vuoi sparare anche a noi? Eccomi, Wanda. Stefina. Sì, sto cercando di salire, ma non mi fanno passare. Dove è Oscar? Oh mio Dio. Fa' attenzione. Oh mio Dio. Che gli avete fatto? L'avete ammazzato? Sì, che gli avete fatto? Lasciatevi passare. Non potete perdere. Muoviamoci. Signora, si allontanano. Come sta? Voglio sapere come sta. Voglio sapere come sta. Potemi stare con lui. Che gli avete fatto? No, per favore. Sietemi dove lo state portando. Dove lo portate? Dove lo portate? Dove lo state portando? Lo portano a Ilan. Si calma. A Ilan. Buon po tacone. Tioppe. Dove lo portano a Ilan. Grazie a tutti